alla caccia delle panchine giganti l'abbiamo trovata, fatica, vai, guarda il panorama guarda bella questa panchina, questo progetto si chiama The Big Bench Project cos'è Big Bench? la panchina grande, questo è un progetto, ora scendo e te lo racconto a un modino nasce da questo architetto che si chiama Chris Pengel che è un designer americano che un giorno dice sai che mi faccio una bella panchina nel mio campo dove ho le linee perché lui si è trasferito qua nelle langhe e l'ha fatta rossa insomma ha fatto moda, ora penso è da lui che l'ha fatta nel 2010 oggi siamo nel 2021, ce ne sono ben 168 ci sono anche da noi in Toscana, lo sapevi? insomma questa cosa è interessante tra l'altro perché ha incentivato un po' il turismo sai la gente viene qua, va a cacciare delle panchine come si sta facendo io e te e alla fine visita verso i posti bellissimi, capito lui? se uno vuole la panchina la può anche ordinare sarebbe bellissimo però farlo anche noi a Livorno questa bella sul lungomare, sul romito se avessi un'idea da dire ai sindaco chissà quattro cosa la salita si mette turbo turbo vai vediamo se riesco eh sarà dura eh no, gole non dà via la catena no, gole